Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi, io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando il grito che tu non saresti mia scuola, tu per questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.